Musica Cari amici Fiat Bodismo Informatio, buonasera a tutti, ben ritrovati da Andrea Gusella per questa puntata di oggi, sabato 5 giugno 2021 di Fiat Bodismo Informato. Come sempre grazie a Davide Maggiolo che ci assiste in regia, da dove possiamo partire? Sicuramente possiamo iniziare a parlare del cammino di Sant'Antonio, la manifestazione del 2 giugno che come vi avevo anticipato si è svolta l'altro ieri con partenza da Campo San Piero e arrivo alla Basilica del Santo. È una manifestazione che già negli scorsi anni ha visto sempre una partecipazione contenuta forse per le paure del chilometraggio, forse per paura del caldo, sempre sicuramente un'attività in qualche modo impegnativa e per caratteristiche non indirizzata verso i runner, ma più indirizzata verso i camminatori. Siamo riusciti come sempre a portarlo in porto, chiaramente le condizioni del periodo non ci consentono sicuramente di fare cose migliori, ma quello che possiamo dire, quello che possiamo fare è che intanto le nostre manifestazioni, le nostre attività che abbiamo programmato continuano ad essere effettuate. Stiamo lavorando chiaramente attorno a tutte quelle che sono le nuove disposizioni in materia, anche se dalle analisi fino ad oggi condotte, i protocolli adottati dalla Federazione recepiscono appieno le linee guida per quanto riguarda la situazione delle attività motorie e per quanto riguarda in particolare anche gli aspetti collegati alla somministrazione dei famosi ristori degli alimenti ai partecipanti alle manifestazioni. Ripeto, sono iniziative in questo momento che stiamo in qualche modo sostenendo, il lavoro che sta facendo la Federazione è volto a incentivare le associazioni a una ripartenza in sicurezza, chiaramente con il forte sostegno dei protocolli e delle iniziative che si stanno elaborando anche dal punto di vista federale. Ricordo che il nuovo consiglio direttivo della Federazione si è insediato un paio di settimane fa, giusto oggi la prima riunione operativa sia della Giunta che del Consiglio. Gli argomenti chiaramente sul tavolo erano in primo luogo argomenti di amministrazione perché chiaramente le attività delle associazioni proseguono, ci sono degli adempimenti di natura normativa che vanno assolti, compresi per esempio le presentazioni e le provalazioni dei bilanci, ci sono una serie di inconvenze che chiaramente impattano tutte le associazioni e anche in questo caso anche la Federazione, anche FIASP, ha i suoi aspetti da analizzare. Però è anche stata l'occasione, quella di oggi, di un'analisi congiunta dello scenario, del panorama per quanto riguarda la ripartenza da parte dei nostri associati, il riavvio delle iniziative e chiaramente anche un attimino una disamina di quelli che sono un po' i timori, un po' i freni che possiamo trovare in questo momento particolare. Abbiamo detto e è stato ripetuto più volte da vari fronti il fatto che in questo momento ci stiamo avvicinando, lunedì Veneto in zona bianca e assieme ad altre regioni non significa che ci sia un liberi tutti, ma è semmai necessario perseverare in quelle che sono le iniziative fino ad oggi portate avanti, in quelle che sono i provvedimenti di prevenzione anti-Covid che abbiamo adottato come federazione e cercare chiaramente di rendere chiaro e facilmente applicabile ai partecipanti e soprattutto agli organizzatori questi protocolli. C'è bisogno del contributo di tutti e c'è bisogno dell'impegno anche da parte nostra, da parte della federazione e dei comitati territoriali appunto per sostenere e dare supporto agli organizzatori che stanno pensando di ripartire. Nel frattempo, novità di questi giorni, abbiamo potuto arricchire il nostro calendario di attività con un nuovo percorso che sarà disponibile nella prossima settimana, il percorso 10.000 passi UTR a Teolo del quale ne parleremo però la settimana prossima direttamente con gli organizzatori con i quali faremo un attimino, avremo una descrizione dettagliata dello scenario, del panorama, dei percorsi che questi nuovi percorsi, dei quali abbiamo già pubblicato sulla nostra pagina del nostro sito, la pagina dedicata di fiaspadova.it ai percorsi attrezzati dei 10.000 passi, anche questo percorso che di fatto è una serie di percorsi molto appetitosi di 9, 15 e 18 chilometri. Chiaramente si tratta di percorsi collinari, percorsi off-road per i quali è necessaria sicuramente attenzione, è necessaria verificare le condizioni atmosferiche e sono percorsi che chiaramente presentano degli ostacoli anche di natura, proprio di natura in natura, dati da salite, dati da percorsi sassosi e quant'altro che vanno sicuramente considerati nel livello anche di preparazione di coloro che vi partecipano. Ma come ripeto ne parleremo con gli organizzatori della prossima settimana e sono sicuro che molti di voi apprezzeranno specie in prospettiva del periodo estivo in cui tradizionalmente la provincia di Padova non propone manifestazioni, avere comunque un polmone importante come i Colli Uganei sia sicuramente affascinante ed interessante. Quindi cercheremo in tutti i modi anche di valorizzare il lavoro, l'impegno appunto di United Trail Running che in questo caso si preoccupa dell'organizzazione, così al pari degli amici di DIVO, un suo origine per la SLA, amici di Danilo Malesani di DIVO, che propongono a loro volta in questo momento un percorso diciamo così di pianura sul territorio di Vovecchio e molto tranquillo ma si stanno anche adoperando per proporre un percorso di natura collinare, anche questo in una fascia molto bella dei nostri Colli Uganei. Proseguono, riprendono, proseguono le attività degli allenamenti collettivi, stiamo pianino pianino risalendo la china e ci stiamo cominciando a ritrovare con le nostre varie iniziative. Per quanto riguarda gli allenamenti, abbiamo detto già, sono ripartiti con le attività dell'Irene Run nel Sapeave di Sacco, siamo partiti con le iniziative di Paleo Run che si ritrova il mercoledì sera a Rubano in piazza Martin Luther King e ricordiamo anche che martedì 8 giugno ad esempio gli amici del MiVao con Vado di Corsa, MiVao 2021 con l'iniziativa che viene, che si svolgerà a Borgo Ricco, come al solito, un'attività sostanzialmente con partenza libera dalle 7 alle 21, un percorso che è disponibile per tutta la giornata di martedì 8 giugno a Borgo Ricco e percorso di circa 8 chilometri e il tutto è finalizzato alla raccolta fondi per il progetto Respirare un'area nuova della cooperativa sociale Nuova Vita destinato all'acquisto di una bicicletta per il trasporto dei disabili. È un'iniziativa sostenuta dal patrocinio della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese e quindi vi ricordo appunto martedì 8 giugno l'appuntamento è a Borgo Ricco. Per quanto riguarda le altre iniziative, chiaramente aspettiamo progressivamente l'iniziativa dei prossimi giorni dei nostri gruppi, augurandoci appunto che riprendano in diciamo così anche a vario livello le iniziative domenicali, stiamo lavorando per queste, stiamo cercando appunto di ripartire con le iniziative domenicali e speriamo molto presto di potervi anticipare nuove iniziative o la ripresa di iniziative che erano state già inserite nel calendario 2021. Con questo io direi vi posso salutare e darvi appuntamento alla prossima settimana con FIAS Podismo Informato e buona corsa a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!